Eccoci. Ciao. Niente. Sono due. Sì. Ora mattina presto. Che ore sono? Non nemmeno visto l'ora. Sono sei qualcosa. Ok. E niente. Facciamo un pezzo di colazione e poi per le sette andremo al Royal. Abbiamo già la giornata mega stra-organizzata. Sala colazione, buffè, persone al lavoro, piscina, modella. Siamo dedicato una modella. Ci hanno dedicato. E poi ovviamente le camere. Quindi anche lì ci sarà un po' più di lavoro. Però non sono dedicate delle persone alla cura delle camere. Quindi cerchiamo di giocare anche un po' con le persone che resetano le camere. Chi ha rapporto con la camera. Quindi non è sempre solo cliente che ha rapporto. In realtà sono tutti gli altri. Il cliente è solo uno della catena. Quindi cerchiamo di dare, diciamo, quel valore aggiunto in più che rimanca. Basta. Niente. Abbiamo qualcosa. Ciao ragazzi. Ci aggiorniamo. Ciao. Ciao.